un posto pazzesco dunque quando farà la buttata di porcini qua raga facciamo il botto è guarda qua guarda che funghi ci sono guarda con altra russola guarda adesso ha buttato fuori russole ha buttato fuori russole ma quando butta fuori funghetti nostri davide lo vedi nel video ne ho sei ne ho trovati sei davide sei ciao paola ne ho trovati sei raga sei invece io infatti ho fermato la live prima per fare il video il pezzo di video ma lo vedete ci sarà il video oggi pomeriggio tempo di arrivare a casa a montarlo ma ci metto un attimo in un paio d'ore lo butto fuori tra un paio d'ore circa dunque potrete vedere il video sul canale ti ritrovo perché i miei sono dei meteo funghi meteo funghi vuol dire che in base a che cosa niente quello che c'è c'è dunque un meteo proprio incredibile un posto pazzesco raga pieno di funghi peccato che per adesso porcinetti uno solo oggi adesso ha buttato fuori le russole non so se cacchio lì c'è ancora da andare ragazzi attenzione ormai siamo qua andiamo ormai siamo qua andiamo andiamo a vedere fino in cima devo vedere cosa c'è là in cima un po' la follia è un po' la follia raga cioè ho scarpinato come un pazzo infatti chi c'era in live prima mi ha sentito smoccolare perché dicevo ma che cacchio di salita sto facendo per che cosa tanto non troverò niente e invece e invece sono andato a finire un posto pieno di funghi pieno adesso vediamo se su è la stessa cosa qua intanto ce n'è un altro caduto va bene per ora porcinetti in questo pezzo di bosco uno tutto il resto erano russole e altri vabbè altri funghi ma questo non vuol dire niente perché in futuro potrebbe arrivare la buttata di porcini incredibile ho trovato un posto pazzesco non lo conosce nessuno questo è mi raccomando non dite niente a nessuno non dite niente a nessuno deve rimanere segreto pazzesco raga pazzesco 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 siamo riusciti a trovare il sesto porcinetto in un posto nascostissimo e ora sto scalando praticamente l'everest non so neanche cosa c'è qua dietro una fava non c'è niente niente di particolare fa niente non è che può andare sempre bene non c'è niente di spettacolare guardiamo un po qua tanto ormai siamo arrivati su no non vedo non vedo no è un video lungo è un video lungo lungo sarà cinque minuti attenzione raga attenzione raga è incredibile è incredibile è incredibile è pazzesco un porcino di quelli veri quelli seri incredibile senti pazzesco il numero 7 no sono un genio sono un genio sono venuto in un posto dove mi sono fatto un mazzo per salire sembrava che non ci credo settimo fungo settimo fungo di giornata no 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 guardate che magnificenza che spettacolo che spettacolo vabbè è un po piccolo senti davide cosa faccio lo butto penso che sia uno dei funghi più sani che abbia trovato in questa season guarda che roba o ok non è gigantesco però come prima raga come prima faccio il video faccio per spezzare di video per la spezzone e dopo e dopo ci risentiamo